E lo facciamo tutti insieme, tutti! Ciao, tutti! Buongiorno a Daniela, Cristiano, Giorgio, 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 e questo me lo lascio di tutto lo stadio, nella Roma e nella Marcia. Cambià del puzzle, cambiali con noi, cambiali con noi, dosi specialty mobile. Cambià del puzzle, cambia del puzzle, cambia del puzzle, cambianne con noi, dosi Whichever male! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.